Si chiama Janos River, l'ottantenne ciclista polacco che da 16 anni gira il mondo in sella alla sua bici e che ha attraversato finora 150 paesi. Da qualche tempo in Sicilia, in questi giorni sta attraversando i paesi della fascia ionico-etnea e scampato miracolosamente alla tromba d'aria che nei giorni scorsi ha colpito Marina di Cottone e ha prodato ieri a riposto, dove è stato accolto calorosamente. Ho preso decisione, come sono residente a Roma Fregene da 40 anni, adesso ho 80 anni, ho preso decisione anno 2000, 16 anni fa, che faccio un giro del mondo che nessuno della storia ha fatto prima di me. Cioè ho deciso di girare del mondo con sacco a pelle e praticamente 3 euro in tasca, altri soldi no. In questo modo ho cominciato a girare dal 1 gennaio 2000, partito dall'Isole Canarie, fatto giro di tutta Europa e dopo ho passato tutti i continenti, finora ho uscito a fare 152 paesi e 250.000 chilometri. Per finire mi rimasta solo Sud America, Australia e Cina e finisco il mio giro del mondo quando avrà 90 anni in Pechino. Anno 2026, ho dovuto venire in Italia perché è stato invitato per Olimpiadi che è dovuto essere a Roma in 2024. Dopo quando ho saputo in Siberia dove è stata ultimamente in giro notizia che non si fa più Olimpiadi in Italia, io ho preso decisione che ultima volta mia vita venga in Italia. E faccio giro a tutta Italia, che sono 12.000 chilometri. Andando alla spiaggia, non lo so come, non sono morto perché è andato a dormire sulla spiaggia, è andato tutto bene, a Marina di Cotone dove c'è il ristorante Mare Gambo che il padrone mi ha dato permesso perché lì c'è un tetto che non passa la piove. E praticamente ore 8 mattina, quando è andato al mare lasciando bicicletta sotto teloni di ferro con tutto là, passato tromba dell'aria. Il signor River visita sempre le scuole dei paesi in cui fa tappa e racconta ai ragazzi le sue esperienze e ciò che l'ha spinto a compiere quest'impresa. Impresa che pianifica nei dettagli, ci mostra una tabella di marcia e il suo diario di viaggio in cui appunta la spesa giornaliera che ammonta non più di 4 euro. Nella cittadina marinara però è stato derubato della sua bicicletta. Denunciato l'accaduto, i carabinieri di riposto sono intervenuti ritrovando la bici nel giro di poche ore. Janos River è dunque pronto a ripartire alla volta di nuove avventure. Sono ospite del proloco e del sindaco che mi invitano per tutte le feste di natalizie. Lasciato a fronte della comune bicicletta per andare a mangiare un ristorante in centro con vigili urbani che girano intorno, torna bicicletta non c'è più. Telefonato carabinieri, carabinieri si è dato tutto. In tre ore ho trovato ladro e sfortunatamente, che mi dispiace molto perché io amo molto Sicilia, ladro è siciliano, residente di questo paese. Carabinieri stati fino del mondo.